Questa sera ospitiamo il secondo dibattito del festival, dopo aver parlato lo scorso lunedì degli aspetti economici legati alla guerra in Ucraina, stasera siamo per parlare delle trasformazioni nel mondo del lavoro con l'avvento della pandemia prima e poi della guerra stessa. Stasera abbiamo deciso di parlare di questo partendo da due esempi per noi paradigmatici, il caso di Grafica Veneta una rappresentazione di un modello con cui dei lavoratori iper ricattabili vengono ridotti alla schiavitù e il caso GKN in cui l'azienda non si è fatta alcuna remora a provare a licenziare più di 400 lavoratrici e lavoratori il giorno appena finito il blocco dei licenziamenti. Siamo qua perché a partire da questi esempi vogliamo portare in luce le lotte che le lavoratrici e i lavoratori hanno organizzato e sono stati in grado di promuovere e quali modelli ci permettono di affrontare e di andare al contrattacco del sistema di governance. Vorremmo articolare questo dibattito in due tranche per fare in modo che nella prima parte si possa parlare a partire dai casi specifici dei processi di trasformazione, di sfruttamento che intervengono appunto nel mondo del lavoro e parlando di questi due casi quindi parliamo di caporalato, dei sistemi degli appalti, dei subappalti, delle localizzazioni mentre nella seconda parte ci piacerebbe invece affrontare e focalizzare la questione sull'urgenza del conflitto, sulla vera e propria domanda del che fare e anche su quindi quali sono le forme appunto che possono riportare al centro la questione anche della democrazia nei posti di lavoro. Questo dibattito lo affrontiamo insieme ai nostri ospiti che sono Massimo Carlotto scrittore che si è speso nella vertenza di Grafica Veneta, Dario Salvetti e Beppe Iapicca che sono compagni del collettivo di fabbrica GKN, Marta Fana ricercatrice economista e Gianni Boetto portavoce di ADL Cobas. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti alcune parole per inquadrare insomma il punto da cui partiamo questa sera. Lo stop dovuto alla pandemia e la ripartenza selvaggia ci mettono di fronte sicuramente ad una situazione drammatica dal punto di vista sia sociale che lavorativo. La pandemia ha prodotto un impoverimento generalizzato che come al solito ha colpito le fasce più fragili della popolazione mondiale e dopo la pandemia sembrava che dovessimo affrontare una ripartenza, una ripresa globale che dovesse essere fondata sui valori dei bisogni delle persone rimettendone al centro appunto la cura dei territori, la sanità, le reti dei servizi sociali, le reti di cooperazione e l'impegno per fermare il cambiamento climatico che mette a rischio tutto il pianeta. Quello che invece abbiamo vissuto e viviamo è il fatto che questa era solo una solo retorica e la ripartenza in realtà è stata totalmente deregolamentata e ha messo in luce come la voracità del capitale sia invece in grado di intervenire per utilizzare questi modelli di crisi e accelerare le sue trasformazioni e non facendosi assolutamente scrupolo poi degli effetti che ne conseguono. Questa sera in questo senso vorremmo parlare di questa rinnovata aggressività, di quella che noi possiamo ovviamente definire la nostra controparte che però ha dovuto sicuramente anche affronteggiare delle forme di resistenza. Ci scontriamo però con la grande capacità del capitalismo anche di silenziarle, di ridurle a una mera vertenza settoriale. Al massimo sono qualche piccola stortura nel modello che è l'unico possibile. Vediamo anche la riproduzione di questo modello unico proprio nella guerra che se da un lato produce una devastazione e distruzione, morte tra i civili, dall'altro lato non scalfisce minimamente gli affari, la speculazione degli imperi, degli oligarchi in ogni parte del mondo e anzi rimigorisce lo sfruttamento energetico fossile, riapre il sistema del debito a livello mondiale, afferma insomma il sistema economico neoliberale su ogni piano. Spesso chi è riuscito a organizzarsi, lo ha dovuto fare in chiave difensiva. Ci sembra quindi urgente oggi il bisogno di un ragionamento quanto più diffuso che possa avere come parole d'ordine la riconquista sul terreno dei diritti, la riappropriazione di reddito e che soprattutto sia in grado anche di parlare al di fuori degli ambiti di movimento. Per questo per noi è importante partire dal caso di Grafica Veneta e di GKN perché vediamo in questi due esempi la spinta per parlare a tutta la società. La volontà di non settorializzare la lotta sui posti di lavoro, la capacità rinnovata anche di presa di posizione di figure che magari sono indirettamente legate alla produzione in questione o magari non lo sono per nulla ma che riconoscono la necessità di portare la solidarietà fuori dall'avvertenza specifica. Questi due casi ci permettono anche di capire l'avanzare delle forme di sfruttamento che permano ogni settore economico e come in realtà i processi economici di cui parliamo in realtà sono dei processi politici di potere. Io lascerei a questo punto e su queste suggestioni la parola per un primo giro di intervento ai nostri ospiti partendo da Massimo Carlotto e vi ringrazio molto.